Ci troviamo all'Odeon, Lanchester Square. Oggi è la prima del film di Tom Cruise, Lions for Love. Lions for Love. Sto aspettando Tom. Visto se lo beccherò, mi tropperebbe un po' da due. Ci sono queste quattro facce di ciola davanti a me, sperando che si levano dal cazzo all'arrivo di Tom. C'è un po' di bella gente che aspetta l'arrivo del tappino. Sono le 3 più o meno, l'arrivo è previsto per le 5 forse, chissà se riusciamo a vedere qualcuno. Passo e chiudo.